Lo dovevamo aspettare, visto i 48 punti e i 41 del primo tempo. Buono il primo per Rosselli. Rosselli, buono anche il secondo. Meno uno, due, trentasei. Delicatissimo della partita, due tene liberi per Rosselli. Buono il primo. Arrima a riportarsi a meno due. Buono anche il secondo. Loro giocano fino alla fine, effettivamente, quando fanno i tiri così senza pensarci troppo, li segnano o comunque giocano bene. Rosselli, la penetrazione, ancora lui a guidare, prendere per mano la Reier in questo finale. Tocarsi il possesso. Ci sta provando in tutte le maniere l'umana. Rosselli, assolutamente decisivo, comunque, di tiri liberi. A segno. Sicuramente si è preso delle responsabilità sia nel uno contro uno che nei tiri liberi. Grazie. Grazie. Grazie.